Cartier Tank Frances, il segnatempo che ha conquistato le star. Il Cartier Tank è un orologio iconico e inarrestabile che ha celebrato il suo centenario lo scorso autunno. La sua storia è intrisa di eleganza, stile e influenza di personalità famose in tutto il mondo. Nel 1917, lui Cartier decise di rompere gli schemi dell'epoca, che vedeva predominare orologi rotondi, e creò il primo prototipo del Tank. Questo orologio rettangolare era ispirato all'aspetto delle autoblindo, della prima guerra mondiale, in particolare al Renault FT, considerato il primo carro armato moderno. Questo veicolo era caratterizzato da una torretta girevole e da gradini a cingoli che sporgevano dai lati dello scafo. Questi gradini avrebbero ispirato le branch card dell'orologio Tank, che fungono da anse per il cinturino. La collezione di orologi Mast de Cartier è rimasta in ombra per molti anni, ma è recentemente rinata come oggetto da collezione. Cartier ha rilasciato nuovi modelli Tank Mast all'inizio del 2021, mantenendo la tradizione dei quadranti colorati che erano diventati un segno distintivo dei Mast originali. Uno dei lanci più sorprendenti è stato il Tank Solar Beat. Il cuore del Solar Bit è un movimento al quarzo, alimentato dalla luce, con una batteria ricaricabile progettata per durare almeno 16 anni. L'aspetto del quadrante è simile a un tradizionale Tank Louis Cartier, con la particolarità che solo i numeri lasciano passare la luce per alimentare la cella fotovoltaica. Questa innovazione ha permesso di mantenere l'estetica classica del Tank, con il vantaggio di una carica più lunga e sostenibile. Oltre un secolo dopo la sua creazione, l'orologio continua a essere apprezzato e ricercato da appassionati di orologi di tutto il mondo. Le diverse collezioni, tra cui Mast, Anglaise, Louis Cartier, American, Frances e Solot, rappresentano la versatilità e l'adattabilità del Tank, che è un vero e proprio simbolo di classe e raffinatezza. La storia di questo orologio iconico si intreccia con il fascino delle celebrità, il genio creativo di Louis Cartier e l'evoluzione della moda e dell'orologeria nel corso del tempo. Con la sua eredità duratura, il Cartier Tank continuerà a brillare nei decenni a venire. Il Tank Frances si presenta come un vero e proprio gioiello moderno, con una cassa arcuata e posizionata al centro di un bellissimo bracciale a maglie. Una referenza molto interessante di questa collezione composta in totale da 10 modelli è la W.E. 110.005. Questo modello si presenta con una cassa in acciaio, abbinato ad una corona ottagonale che è stata ornata da uno spinello sintetico cabochon. Il quadrante si presenta argentato con lavorazione flanchè e laccato. Sul quadrante al posto degli indici sono disposti 11 diamanti taglio brillante, tranne per le ore 12 che sono segnalate dal numero romano. Il bracciale dell'orologio è in oro rosa e o acciaio. Il modello infine, ha un movimento al quarzo ed è impermeabile fino ad un massimo di 30 metri.